Salvatore Rossini e Marco Santucci che avevano ruoli diversi allora, allora come ti senti a tornare qui a Sora, Totò? Buonasera a tutti, ciao per gli amici che ci sono, quindi è un piacere, è un piacere, tanti complimenti per quello che Sora sta facendo sia dentro il campo sia fuori perché tutta Italia ne parla quindi c'è da essere orgogliosi. Bene grazie, ovviamente è inutile sottolinearlo, campione d'Italia, medaglia d'argento alle Olimpiadi e che finalmente metta, allora ma alla fine chi è più forte in posto 4, tu o lui? Lui ha vinto il campionato di B2 da solo, l'ultima partita ha giocato, siamo invertiti i ruoli, ha giocato benissimo. Grazie, grazie, un grandissimo applauso a Salvatore Totò Rossini e a Marco Santucci!